Yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video reaction si una roba incredibile perché konami dopo il video spot dove sembra che vuole creare una casa di animazione ora se ne esce con una nuova collaborazione con hello kitty e mcdonald ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio che sfortunatamente non vende anche organi umani ma vende solamente giochi di carte fanco magliette di influencer la mia non c'è sfortunatamente e niente basta finito qua e fanco e ovviamente utilizzando il mio referral link che trovate qua sotto e il codice sconto cappello 5 potete ottenere un 5 per cento di sconto su tutto il vostro carrello su prodotti ovviamente che non sono soggetti ad altri sconti inoltre se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del ministro sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo ovviamente erenz è sempre con noi e adesso andiamoci a vedere cosa hanno tirato fuori poi erenz allora cosa ne pensi cioè no cosa ne pensi cosa ti aspetti non ne ho la più pallida idea sicuramente molto cibo buono che finisce nelle nostre arterie si morimo tutti per colpa di in qualche pena attaccata o arteria che se si fa la fine dei pokemon si ordinano 800 ip 1000 poi si danno da mangiare ai ai bisognosi ah no non funziona così in italia giusto vabbè a parte tutto che da come puoi vedere è un'esclusiva del belgio speriamo arrivi pure da noi e speriamo che cioè fa strano che ci sia anche hello kitty però speriamo che siano carte carte mix hello kitty yuki no non vediamo allora partiamo già parte bene potrebbero essere delle carte di hello kitty col vestito vediamo fai finire lo spot volevo dare una mia idea a metà è stato veloce e indolore non sono non sono carte è bellissimo non sono carte però bellissimo le tipe ci muoiono per questo sì sì è il modo giusto per buttare le tipe all'interno di questo gioco visto che sono due attualmente in italia sì vabbè ci sono cinnamon roll e il diavoletto che è uno slifer non chiedermi perché conosco i nomi di ste robe ho avuto delle tipe sì wow e niente praticamente so come conquistare le tipe adesso meno quelle che hanno tatuato cinnamon roll appunto guarda c'ho drago bianco chi blu cinnamon roll vuoi uscire con me? allora diciamo che da una parte la loro mossa di marketing è interessante perché comunque penso sia dal 2004 che non fanno una collaborazione con mcdonald e poi è stata un'esclusiva americana da noi non è mai arrivata dall'altra mi chiedo perché fa una roba del genere cioè so bellini tra molte virgolette andrò al mc li collezionerò a tutti però dai mi aspettavo viaggio in belgio? sì sì ovviamente mi aspettavo delle carte è questo io ho sempre delle aspettative e quando non vengono mantenute mi sembra tutto una merda però l'altro lato positivo della medaglia è che è una collaborazione oltre che con mc con un altro brand molto forte cioè hello kitty penso sia una cosa planetaria che conoscono effettivamente tutti quindi diciamo in questo modo vai a beccare i fan di mc e i fan non di mc dell'apple i fan di mcdonald e i fan di hello kitty per buttare all'interno di questo calderone i giocatori anche persone che non c'entrano niente che possono essere considerando il target di entrambi i brand ragazzini persone delle medie persone dei superiori universitari persone di 50 anni che seguono hello kitty nel pratico è questo sì sì a me sembra un'attima mossa per dire venite a mangiare giocata yugioh bella no no ma allora pokemon tutti gli anni collabora e fa ristampe di carte con una foilatura a caso e mi sembra il logino del mc quindi ci sta che anche yugi ci riprovi perché parliamoci chiaro cioè ci ritroviamo in un momento in cui yugi si trova in un mare di altri giochi di carte famosi molto meno famosi molti esempio c'è pokemon c'è one piece c'è digimon c'è orso will c'è magic c'è boh hanno fatto di tutto adesso anche le carte di star wars nel senso nel momento in cui ti ritrovi in un calderone così ampio devi un attimo farti notare e come ti fai notare collaborando con un milione di aziende e facendo in modo che la tua faccia i tuoi prodotti siano facilmente reperibili al grande pubblico tutto qua adesso vediamo cioè io sono ottimista sì sono ottimista perché in primi sconfido che arrivi in italia nel secondo confido che da qui possano fare altri step e fare altre cose sempre più carine con tipo qualche brand di vestiti per fare qualcosa di carino e non la roba di gu ci potrebbe stare sì sì ci potrebbe stare ho paura ma ci potrebbe stare oppure qualche collaborazione con qualche boh film o non lo so altro gioco di carte per creare delle carte tematizzate no forse la sparo troppo però effettivamente cioè le potenzialità sono enormi il brand è potentissimo l'ultima cosa voglio dire konami anni fa avevi fatto lo swatch di yugi attualmente è irreperibile costa 800 euro non è che me lo fai di nuovo cioè se riuscissi a reperirlo a 100 150 euro 200 ci sta ma 800 euro uno swatch di yugi o così cioè sono l'ultima persona a poter dire eh no ma questa roba costa perché ovviamente spendo mensilmente tanto in carte sia per i contenuti che principalmente per i contenuti e quindi chi so io di eh no 800 euro per uno swatch sono troppo però nel senso se me ne fai un altro carino io so solo che con te erence te quindi cosa ne pensi onestamente voglio andare al mcdonald li voglio non so perché sono un accumulatore seriale e li voglio se la konami però riproponesse qualcosa del tipo anche le figurine stile mcdonald sarebbero più carina magari allora immaginate un set da 10 con queste immagini in delle carte sì esatto è quello che stavo per dire cioè il drago bianco chi blu con l'immagine appunto di quel di quel coniglietto cane qualsiasi cosa sia adesso mi linceranno vivo perché non so cosa sia quella roba pure sì lo strugone del tempo cioè no fatemene in carta fatemene in carta tipo il l'exodia quello particolare che è uscito in giappone o o i retrain di cioè i remake di rinforzi dell'esercito in maniera simpatica fatelo e datemi uno swatch gratis grazie perché non è una cosa nuova nel senso pokemon ha fatto tipo i pikachu vestiti da charizard sì ok vabbè quello è un prodotto che costava 100 euro adesso costa troppo ovviamente costa tipo 7 milioni di euro per la coniglietta di pokemon è tutto giusto sì 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 certo ovvio immagina quelli lì che hanno tutte quelle scatole chiuse e ne fanno uscire una volta ogni x come fanno beh il mercato di pokemon funziona così io ce li ho e li faccio uscire e te li vendo a un prezzo stupido perché tanto tu me li compri un prezzo stupido è la vita va così e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate nel senso konami sta facendo le mosse giuste o sta cannando totalmente perché parliamoci chiaro quello che sta facendo ultimamente è fuori dal normale schema di movimento dell'azienda cioè parliamoci chiaro la casa di animazione e la collab con mcdonald e hello kitty penso non sia una cosa che ci saremmo mai aspettati tutti noi ma vabbè detto questo ragazzi ovviamente state melisi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti grazie a tutti